Buongiorno, focus bollettino colture erbacee, aggiornamento. Completiamo l'analisi della strategia di difesa integrata dagli insetti del suolo, dagli elateridi, nelle colture erbacee. Abbiamo visto nelle precedenti puntate come ci siano dei fattori di rischio che sono ben conosciuti, che vanno valutati. Qualora non ci siano fattori di rischio la probabilità di avere un attacco in grado di ridurre la produzione è molto bassa, si possono comunque porre in essere delle strategie di tipo assicurativo per coprire anche questo rischio molto basso, normalmente non è necessario fare nulla. Qualora ci sia uno o più fattori di rischio, compreso il fatto che sono stati rilevati livelli alti di catture di adulti con la trappola a ferormoni, ci sono i monitoraggi delle larve per capire se le popolazioni sono elevate. Ad esempio nell'autunno, negli appezzamenti dove ci possono essere, ci sono stati dei fattori di rischio, facciamo un monitoraggio se prevediamo di fare del mais o delle colture suscettibili nella primavera successiva. Normalmente cerchiamo di lavorare però a monte, come abbiamo visto ci sono delle soluzioni di rotazione che riducono il rischio di avere un danno, una popolazione elevata l'anno successivo. Ad esempio, se nella mia rotazione salto l'anno di mais subito dopo il prato e lo faccio l'anno successivo, oppure semino subito dopo aver arato il prato, già questo riduce di molto la probabilità di attacco di quel mais. Se sono in una zona dove la popolazione di elateridi era già elevata, per esempio un anno di soia prima del mais tende a ridurre in modo apprezzabile ulteriormente il rischio. Perché? Perché la soia viene seminata normalmente tardi, i terreni vengono lavorati proprio nel periodo in cui alcune specie molto dannose da noi, potenzialmente dannose da noi come Agriotes sordides o Agriotes brevi stanno oviponendo le uova e quindi l'elaborazione stesse riducono di molto le popolazioni, le uova, la densità di larve giovani, per cui nella primavera successiva considerando i cicli di sviluppo il rischio di avere danno è basso. Per le diverse specie importanti da noi sono ben conosciuti i periodi di ovideposizione e di sviluppo delle larve, il momento più critico per loro e quindi è possibile capire le finestre in cui l'effettuazione di lavorazioni o la non presenza di cultura in quel momento può ridurre fortemente le popolazioni e quindi ridurre il rischio. Ci sono anche delle tabelle, se seguite i nostri bollettini, potete pianificare delle rotazioni a basso rischio che riducono di molto la possibilità di avere dei danni e quindi anche la necessità di porre in essere strategie di difesa. Leggete gli ultimi bollettini e i precedenti con tutta la storia e tutta l'impostazione della difesa integrata e potrete impostare per la primavera 2022 una difesa integrata dagli elateridi e dagli altri insetti del suolo molto razionale con una riduzione molto forte degli insetticidi e dei semi eventualmente conciati con insetticidi che consentiranno di ridurre non solo i costi ma anche l'impatto della nostra attività agricola sulla biodiversità del terreno e quindi si possono considerare soluzioni favorevoli per mantenere il potenziale produttivo dei terreni stessi. Alla prossima!